Eccoci ancora qui con il nostro amico Diego. Ascolta Diego, stavamo parlando appunto di efficienza, parlavamo appunto di chip a led che hanno raggiunto un notevole flusso luminoso e abbiamo qui degli esempi naturalmente. Certo che con la vecchia tecnologia se dovevamo illuminare una piantana come questa ci voleva un tubo fluorescente, un minimo, un tubo fluorescente per illuminare. Mentre adesso qui dentro che cosa abbiamo Diego? Abbiamo esattamente queste sbarra led, questo piccolo chip. Sono delle piste dove in ogni pista ci sono dei chip a led, tecnicamente nel gergo per cui questo è un master led, viene dalla fabbrica proprio in questo sistema, ma poi gli esperti lo adottano e lo installano. Viene rotto e viene creato, vengono create le varie piste in base alla necessità che si ha per cui si prende, si rompe la pista e poi la si unisce. Ecco per esempio adesso qui questi sono due moduli, tre moduli, quattro moduli. Questo per quel che mi riguarda è già un 4 watt di potenza. 4 watt di potenza che equivale a un 50 watt vecchio. Un buon 60 watt calcolando che fa un buon flusso luminoso. Noi stiamo dando due messaggi ai nostri amici a casa per chi non se ne fosse accorto. Per quanto riguarda un messaggio per l'utente finale, questi sono i prodotti e il risultato di questa tecnologia che tu hai in mano. Per quanto riguarda, che ci rivolgiamo anche gli esperti, con questo master e questo tipo di applicazione possono realizzare tutto quello che vogliono. Il limite è la fantasia. Chi ha un limite di fantasia, il limite è la fantasia di applicazioni. Per cui il tipo di alimentazione di quella pista abbiamo detto che è sui 12,24,48. 24,48. Per cui questa pista è quella che noi abbiamo qua dentro. Esattamente. Che riusciamo a illuminare. Questo è un esempio di lampada, adesso naturalmente è un prototipo, dove emette un buon flusso luminoso. Enorme. Da esterno potrebbe essere una lampada da giardino, anzi è una lampada ideale quella da giardino. Come una volta c'era florescente, adesso qui ci sono delle piste, ci sono dei led, dove il consumo è bassissimo. L'efficienza luminosa a sostituire le lampade a casa, ripeto abbiamo già fatto una trasmissione in merito alle lampade led, Diego. Per dire, anche verso la lampada compatta, che sarebbe quella lampada denominata a basso consumo, il led è notevolmente superiore rispetto alla lampada a basso consumo. Allora diciamo che a seconda dell'efficienza dell'abbasso consumo siamo già dalle due alle tre volte superiori. E le applicazioni di questi led possono essere variate. Questa è una lampada molto carina, è vetro questo? Quello è un vetro particolare, questo è un prototipo per un mercato arabo, per cui di estremo. Anche questa. Tutti questi sistemi, al di là che possono essere, sono tutti led, ma l'alimentazione a questi sistemi deve essere obbligatoriamente con la vecchia tecnologia, cioè con il tubo corrugato messo giù o possiamo alimentarli anche in modo diverso? No, esattamente. Qui l'alimentiamo, cioè l'ideale è proprio come libertà. Così diamo ai nostri amici a casa, agli utenti e anche agli esperti in materia, come provvedere ad alimentare questi dispositivi, questi corpi illuminanti. Diciamo che il bello del nastro è quello che a questo punto non abbiamo più il limite fisico del punto fisso in cui eravamo arrivati con il tubo, per cui noi con il nastro riusciamo a creare dei giochi di luce fino a ieri impensabili. Per cui cancelliamo la traccia, cancelliamo le opere edili, cancelliamo la tecnologia di canalizzazione esterna e inizieremo ad usare il nastro conduttivo. Questo può essere sia da indoor che da outdoor, cioè sia dentro che fuori. Diciamo che per ora il nastro viene consigliato solo all'interno, poi in realtà è anche vero che non è poco. In realtà poi avremmo anche la possibilità di uscire all'esterno perché se lavoriamo alla tensione ideale per il led che è intorno ai 50 volte in corrente continua non abbiamo neanche problemi normativi verso l'esterno. Per cui sul riscaldamento non abbiamo più questi tipi di problemi. Seguitici perché la prossima è fortemente interessante. A dopo la rubrica. Ciao a tutti. Cari amici ben ritrovati alla nostra rubrica della scienza a portata di mano. Diamo una risposta a un nostro telespettatore che ci ha comunicato un dato importantissimo e ci ha dato uno spunto per dare le risposte. Ci chiede appunto il nostro telespettatore se ho visto la vostra trasmissione vorrei sapere quanto spendo di corrente al mese tenendo acceso una lampada pari a 7 watt per 24 ore. Ora questa domanda è generalizzata ma è comoda avere una risposta anche per voi perché è la base uno spunto di partenza per calcolare indipendentemente da quanto consuma una lampada come punto di riferimento per tot ore. In questo specifico istante prenderemo appunto in considerazione la domanda del nostro amico Aldo per dare appunto una risposta generale. Indipendentemente adesso prendiamo 7 watt di in considerazione. Naturalmente c'è da tenere presente cosa? Quanto è il costo al kilowatt? Il costo al kilowatt è basato su 0,22 euro al kilowatt. Naturalmente abbiamo una lampada da 7 watt come campione in considerazione per cui noi cosa dobbiamo fare? Sappiamo benissimo che un kilowatt è uguale a 1000 watt. Noi ne abbiamo 7 di watt di consumo per cui per un 24 ore di lavoro, cioè la teniamo accesa per 24 ore. C'è da tenere presente che 7 watt sono riferiti in un'ora. Noi spendiamo in bolletta 0,22 euro al kilowatt in un'ora per una potenza o una corrente assorbita di 1000 watt, cioè un kilowatt. Voi ne avete a disposizione 7, cioè ve ne consumate 7. Allora dobbiamo trasformare i 7 watt in kilowatt. per cui in un'ora noi consumiamo 0,07 kilowatt in un'ora. Naturalmente questo dato va moltiplicato per le 24 ore, per cui abbiamo trasformato la potenza di una lampada in watt in kilowatt, perché altrimenti il rapporto non è corretto moltiplicare i 7 watt direttamente con il kilowatt. Per cui abbiamo i 7 diviso 1000, questo è quello che noi consumiamo in un'ora. Ora andiamo a moltiplicare i 7 watt, i 7 0,07 kilowatt per i 22 centesimi di euro al kilowatt, che fa 0,015 euro al kilowatt in un'ora. Ora abbiamo preso i 7 watt, li abbiamo trasformati in kilowatt e abbiamo trovato il consumo in un'ora. Lo abbiamo moltiplicato per i 0,22 euro al kilowatt sempre in un'ora e abbiamo trovato il costo. Perché è diverso? Perché questo è riferito a un kilowatt, questo invece è riferito a 0,07 kilowatt, cioè una lampada da 7 watt. Naturalmente preso questo dato andiamo a moltiplicarlo per i nostri 24 ore, per cui abbiamo preso il 0,015 euro al kilowatt moltiplicato per le 24 ore, ci ritroviamo ad avere 0,036 euro in 24 ore. Questo è tutto, grazie, alla prossima! Ciao a tutti, siamo venuti dalla rubrica, continuiamo il nostro percorso interessante sulle tecnologie innovative. Diego, tu ci hai portato ancora degli oggetti, naturalmente molto interessanti, sappiamo di che cosa stiamo parlando, comunichiamolo al nostro pubblico a casa, ai nostri utenti e anche agli addetti ai lavori. Vediamo una colonnina, una struttura metallica a parete, apparentemente piacevole, interessante. Che cos'è? Ok, colonnina conosciamo già il prodotto, però c'è qualcosa di diverso. Stiamo unendo due tecnologie innovative. Allora, abbiamo un nastro che a questo punto ci permette di arrivare in maniera non invasiva in qualsiasi punto, sia da terra e sia da parete, però poi abbiamo un altro problema, quello della presa, che come dicevi tu prima, la presa non è mai nel punto giusto. E allora qui, sempre con un'azienda a noi vicina e con cui stiamo iniziando ad avere delle collaborazioni che stanno dando enormi risultati, questo è un sistema in cui praticamente la presa la introduci e la monti esattamente dove ti serve. Andiamo a chiarire bene questo particolare perché tu hai fatto un gesto che i nostri amici a casa, secondo me, sono rimasti un po' sconvolti. Tu hai tolto un componente, lo hai tolto da una struttura parete, l'hai tolto dal muro, lo hai tolto da una parete, lo puoi togliere per favore e farlo dire ai nostri amici, anzi, dallo un attimo a me, sono anche curioso, come esperto sono curioso di vedere questo giochino. Questa è una presa. È una presa. È una presa, regolarmente a norma, con tutti i crismi, naturalmente hai fatto un gesto che l'hai staccata dalla parete. Allora, il bello è proprio quella di poter muoverla, rimuoverla e comunque metterla esattamente una, due o più nei punti in cui ti servono. Per cui, adesso ne rubo un'altra, ho due elementi che devono andare in questo punto perché sto magari utilizzando due apparecchi vicini e mi è risposto al punto giusto. Cari utenti a casa, avete capito cosa stiamo dimostrando? Stiamo rivoluzionando e stiamo riprogettando tutto un sistema di impianto elettrico. Noi non togliamo nulla al mondo esistente, riprogettiamo il modo di vedere, il modo di fare elettricità, il modo di eseguire l'elettricità, il modo di applicare l'elettricità. Mi verrebbe da dire l'elettricità libera a questo punto. Sì, libera o, una cosa è certa, non sbaglieremo più di mettere la presa dietro i mobili. Eh, non è poco. Poi una cosa interessante che a volte anche i miei clienti mi dicono, le prese sulle cucine quando non sono mai abbastanza. E qui invece non sono mai sufficienti. Per cui questa piastra conduttiva, che è comunque un supporto in metallo, può fare due funzioni, da esterno o da interno. Da interno. Per cui chi nella riprogettazione, nella ristrutturazione di un immobile, piccolo o dimensioni, grande che sia, non parliamo di identità di un immobile, in una normale ristrutturazione, noi mettiamo giù il corrugato, i classici tubi, che è quello che noi abbiamo qui in studio da noi. Questo tipo, se la regia riesce a inquadrarlo, magari da fare... Ecco, questo tubo bleh, che in questo momento stiamo guardando, questo è il classico tubo che usano gli elettricisti quando fanno la ristrutturazione. Esatto. Per cui abbiamo opere edili, tracce nel muro, si mette giù il tubo, l'elettricista infila i fili e va a creare le cassette nella posizione che magari l'architetto o il geometra gli ha precedentemente spiegato e strutturato da un punto di vista di progetto. In questo caso, noi con il nostro famoso nastro conduttivo e con la nostra applicazione appunto, riusciamo a impiegare questo tipo di sistema senza possibilità di mettere cassette di derivazioni. Esattamente. E avere la presa esattamente nel punto dove lo diciamo noi. Esattamente. E se si sbaglia? Si sbagliamo? La si sposta, la si prende e la si sposta. Cari amiche a casa, per chi ha le prese non sufficienti in cucina, questo è un sistema innovativo. Non dobbiamo rompere. Noi non rompiamo assolutamente il discorso. E la colonnina funziona nello stesso modo? La colonnina è esattamente nello stesso concetto. Adesso noi pensiamo magari a una ristrutturazione in cui magari viene bene cambiare il pavimento. Si. Oppure aggiungere un laminato o le mattonelle da un centimetro, perché adesso ci sono tutto un sistema costruttivo in cui hai incastro, in cui non devi nemmeno più spaccare il pavimento. Non devi più spaccare il pavimento sempre che non devi passare un tubo. Certo. Allora lì devi rompere il pavimento. Per cui nel rifacimento di un pavimento dobbiamo fare le tracce nel pavimento per far passare delle tubazioni. Esattamente. In questo caso qui invece noi sempre pensando di un utilizzo di un pavimento laminare o in ceramica praticamente con l'utilizzo del nastro conduttivo lo stendiamo a pavimento e andiamo a alimentare la nostra colonnina. Dalla colonnina noi abbiamo sia la possibilità di prenderci la corrente per cui avere la parte di due venti e sia la parte di comando in cui praticamente noi non abbiamo più opere non abbiamo più da rompere il pavimento o quant'altro. Per cui una colonnina del genere può essere utilizzata in un sistema civile e anche terziario. Negli uffici soprattutto dove hanno il pavimento fruttante o in una ristrutturazione non c'è bisogno di rompere. Le colonnine possono essere posizionate messe nelle posizioni ideali e si spostano le prese in base all'esigenza. Pensiamo agli uffici gli uffici nella parte testiare e le abitazioni civili nelle cucine nelle testate delle camere da letto nei musei laddove c'è bisogno nella posizione ideale le varie prese. In questo caso la norma prevede a tutte le certificazioni a norma sono tutte le certificate. Facciamo vedere ai nostri amici a casa abbiamo un esempio noi possiamo spostare la presa da un punto all'altro e comunque abbiamo un'alimentazione. Ci provo io. Vediamo un attimo vogliamo alimentare il nostro cellulare in questo caso lo inseriamo qui abbiamo un adattatore 220 USB per cui è versatile anche proprio come sistema in quanto permette è pratico dà la praticità di utilizzo. Per cui noi non preleviamo soltanto la classica 220 per un elettrodomestico preleviamo anche un adattatore per il nostro carica batteria in questo caso inseriamo il nostro adattatore ecco il telefono si è acceso è sotto carico però noi possiamo fare oddio questa posizione non mi è sufficiente allora io cosa faccio sposto la presa e me la vorrei mettere dall'altra parte si è acceso il nostro carica batteria sta caricando per cui la lunghezza non ha limite questo sistema non ha limite di lunghezza io posso mettere le prese dove mi pare esattamente per cui casalinghe cari amici a casa abbiamo risolto il problema del numero e della quantità di prese sulle cucine e anche sulle testate del letto in questo caso noi possiamo aggiungere a un certo numero che ci pare naturalmente quello che vogliamo da questo sistema preleviamo una potenza noi possiamo comandare anche qualche lampada possiamo avere anche un comando tipo a radiofrequenza diciamo che radiofrequenza comunque ha sempre un vincolo che deve avere l'energia da dove parte e da dove arriva per cui devo essere già dotato ma che devono essere alimentati per cui insomma o una batteria o comunque una sorgente di energia ce l'abbiamo siccome il problema della sorgente di energia poi la fin fine è la batteria non so voi ma quando serve è sempre scarica è sempre scarica è vero comunque poi la fin fine nel momento in cui devo comandare devo avere una sorgente di energia a quel punto lì col nastro quando mi sono portato il nastro ossia la corsia per i segnali e sia la corsia per le note per cui dal momento in cui il tecnico posa il nastro di potenza posa anche il nastro di comando perfetto che in questo caso le batterie ce le dimentichiamo e diamo uno sguardo anche all'ecologia e beh non da poco e non è da poco non è da poco un'ultima curiosità che sicuramente i nostri amici a casa ce la porano questo prodotto italiano questo prodotto è distribuito in italiano tra l'altro è un prodotto di Singapore di cui questo distributore italiano si sta imponendo perché sta facendo delle innovazioni anche rispetto al concetto innovativo di Singapore che sono micidiali per cui stiamo sviluppando in comune una serie di accessori che sono ben oltre quello che era il pensiero originale un'altra da far notare questa qui è una presa quella che si vuol dire tedesca succo da non togliere alle nostre prese italiane ma questo per un motivo ben preciso tutti gli elettrodomestici che esistono in Europa hanno tutte le prese succo il 90% sono quelle al di là dei caricabatterie o robe del genere per cui adesso si eviteranno anche gli alimentatori questo è un esempio gli alimentatori per i caricabatteria perché si va a prelevare l'energia direttamente da questi dispositivi per cui si elimina anche il riscaldamento oddio mi sono dimenticato il caricabatteria attaccato il telefono non succede nulla non scoppia nulla signori vi ringrazio fortemente della vostra attenzione e ci rivedremo alla prossima puntata ciao a tutti saluti e se volete fare come il nostro amico Aldo scriveteci un'e-mail a programmi chiocciola di i-altotv.net prima di salutarvi vi anticipo che il regalo di Natale delle chicks è di quelli che vi faranno veramente ma veramente divertire e piacere se siete donne se siete maschi prendete appunti perché lunedì ospite al salotto delle ragazze ci sarà Roy un vero gigolo che ci racconterà un po' della sua vita magari regalandoci anche qualche dettaglio piccante quindi lunedì non mancate ma non state a casa non state fermi anche questo weekend non rimanete impalati a fare niente riguardatevi tutte le puntate di diffusion della settimana come fare guardatele sul nostro canale youtube guardatele sulla nostra pagina facebook e poi quando siete pieni di diffusion rimanete comunque sul canale 90 del digitale terrestre in compagnia di DTV la televisione dell'Emilia Romagna più giovane fresca e dinamica che c'è buon weekend con me ci vediamo lunedì di DTV Grazie.